Ciao Chef. Grandissimo. Amici rossoneria, amanti del calcio, un saluto da Luca Zed. Oggi location inusuale, sono a Milanello, l'università del calcio, dove da qualche ora è finita la partita per Golettese-Milan, dove il Milan si è imposto per 7 a 1. I ragazzi che sono scesi in campo sono le pseudo-riserve, perché qualcuno definirà riserve un po' riduttivo. Quindi Tantarussano farà i pali, la difesa era stata composta da Florenzi, Gabbia, Kier e Balloture a centrocampo, Krunic con Pobega. La batteria dei trequartisti era composta da De Ketelare, Adli e Selemakers. Punta fissa, Lazetic che ha fatto anche una doppietta. Ma la cosa da notare è che De Ketelare in 45 minuti ha fatto una tripletta, quindi fantastico. Già in forma campionato anche lui direi, quindi fantastico così ragazzi, molto contento. Vorrei fare qualche foto con qualche giocatore, se riesco. In fondo a questa strada c'è l'uscita dei giocatori, vediamo se riuscirò. Se riesco a fare qualche foto e qualche video ve la metto in fondo a questo video qua. Ragazzi scusate gli occhiali, c'è un sole pazzesco, non riesco a vedere niente, non so neanche se l'inquadratura è perfetta, comunque vabbè questo è relativo. Un aneddoto, quando sono usciti i giocatori della Pergolettese, ho chiesto a uno dei ragazzi e ho chiesto, ma visto che avete incontrato sia l'Inter che il Milan, chi vi è sembrato più in forma, chi è sembrato più forte? E lui mi ha risposto che, vabbè a parte il fatto che era di parte perché divava Milan, ma loro hanno perso 8-0 con l'Inter che praticamente aveva detto tutti i titolari, mi ha detto questo ragazzo, compreso Lukaku, mentre con noi che ha perso 7-1, c'erano dentro praticamente le riserve e alla fine mi ha detto. Quindi vedi tu come interpretare questa cosa. Beh, io la interpreto molto molto bene. Alla fine di questo video vorrei parlare del dispiacere per Tonali, che infortunato e con ogni probabilità salterà la prima di campionato, mentre meno grave l'infortunio che è occorso a Messias. Per cui, almeno per lui, siamo abbastanza contenti. Chiuderei qui il video, questo qua non so chi è, è una macchina targata belga, sarà qualche parente di De Ketelare o di Sala Maker. Niente ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate, fatemi sapere se vi è piaciuta la location. Ogni volta che vengo qua per me è un grandissimo piacere e vi si riempie il cuore di Rosso Nero. Ragazzi, forza Milan e noi ci vediamo in un altro video. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Grandissimo. Ciao, ciao. Ciao, Messia, la Champions, la Champions ci lo portano a casa. 3 gol oggi? Sì. Grazie molto. Niente, no.